Poi c'è Emanuele Inso che dice dell'Italian Coin vorrei capire come ottenerla, l'Italian Coin io la regalo, cioè se la volete io ve la regalo, ve la regalo gratis, proprio ve la do gratis, perché praticamente è quello che le banche dovrebbero fare, le banche dovrebbero dare i soldi gratis, poi i soldi dovrebbero circolare per gli scambi commerciali tra le persone, questo è quello che dovrebbe fare una banca e le banche ovviamente questo non lo fanno e non lo faranno mai, perché loro in realtà non danno i soldi gratis, li danno sempre in prestito e non solo, ma in prestito con gli interessi, questo è il senso della moneta debita.